Ehi tu! Sì, sto parlando con te! Se ti piace vincere, seguimi! Se credi alla fortuna, gira a destra! Ora, prendi le scale mobile, sei a un passo dalla vetta! Questo è Uno su Tutti! E se rispondi correttamente alle mie domande, puoi vincere fino a 50.000 euro! Non è per tutti, ma è... Uno su Tutti! Con Marco Berri, Uno su Tutti! Da lunedì a venerdì alle 17 su cielo! Grazie a tutti!